Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del DG regionale, mette regionale del Friuli Venezia Giulia, come di consueto da Audio Repubblici Nord S, RDA1 e Savradio, vi diamo subito le notizie più importanti della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Furbetti del cartellino, indagati se dipendenti regionali a Gorizia, controlli del carabinio nella sede del regionale Friuli Venezia Giulia nel capoluogo Isontino. Scoppia la valvola del fornello mentre prepara il caffè, un uomo ferito gravemente, l'episodio poco prima delle 7.30 di oggi 7 luglio, un uomo, un 60enne residente a Bolzano, è rimasto gravemente ferito al volto e alle braccia. È successo a un bel breakfast ad Aquileia. blitz delle forze dell'ordine da Peperino, scoperta con trabibilità parallela. A Palmanova parapiglia prima del concerto di Battiato, chiuso le bielle ande. A Pordenone la maturità di Marilu, oltre la malattia, ha combattuto al Cro e ha seguito le lezioni via Skype. Ora il diploma. Non permettete alle avversità di cambiarvi la vita. Nord-Est Economia, Banca Venete, Via La Libera al decreto, in aula il 10 luglio. Buca alle Verdi di Pordenone, condannata a sei mesi l'attrice Ornella Muti, due in meno rispetto al primo grado. Il reato diventa tentata truffa. Pesa spesa solo se rifonderà il teatro per 30 mila Euro. Traffico, viabilità in autostrada dal bollino rosso. La previsione è società concessionaria Autovia Venete, che prevede la stessa situazione anche sabato 8 luglio. Un traffico intenso in A4 e A57. Sui social, minacce di morte alla Federcaccia. Scattono le querele. Post sul profilo Facebook della consigliera del Movimento 5 Stelle dal Zovo contro il presidente Viezi, che querela l'autrice ed esponente Grinlina. Ancora Fiumicello, travolto da un'auto. Anziana grave. È accaduto in via San Lorenzo. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine. Allarme in via Treviso a Udine. I tubi perdono gas. Problemi per 60 famiglie. A Udine ha dispersione a pochi chilometri da una centralina di energia elettrica. Intervengono i pompieri. Interrotta la fornitura. A Palmanova col fiatto sospeso per il passaporto Unesco. Tra oggi e domani da Cracovia si saprà se la fortezza diventerà patrimonio di umanità. Il sindaco Martinez, in trasferta in Polonia, dice che la città si merita questo riconoscimento. Ad Artegna cerca di investire tre persone alla festa. Condannato a otto anni. Infatti, dopo una lite, accusato e dittato omicidio, a giudizio anche tre imputati per rissa e danneggiamenti. Altre notizie. La storia. Umberto, 51 anni, ha smesso di cercare lavoro. Faccio il pellegrino. All'estizza non lo pagavano e ha deciso di cambiare vita. Non chiede niente. Vive di quello che gli danno. Aliniano, ancora il corpo ripescato di una donna morta da 25 mesi. Andiamo a vedere altre notizie del tempo e del weekend. Infatti, abbiamo parlato dell'inizio del weekend da oggi. Ormai, infatti, neanche a falla apposta. Siamo il 7 del 7 2017. E' venerdì. Neanche a falla apposta il 7. È tutto in questa data. È anche di quest'anno il 7. Difatti, possiamo dirvi che oggi, il 7 luglio 2017, a quanto pare, infatti, ci sono ancora tante cose che succederanno o no. Andiamo proprio a vedere come volevamo dimostrare che il tempo oggi si toccano e si pronunciano proprio che la percezione della temperatura nel corpo è di quasi 36 gradi, come la temperatura corporea, quindi state molto attenti a non uscire totalmente dalle ore calde, cioè alle ore più importanti, cioè tutto il pomeriggio e anche verso le 8 di sera. Quindi state molto attenti. Finché c'è il sole. Meglio che state riparati all'ombra e bevete il giusto per non avere anche dopo mali maggiori. Andiamo a vedere il tempo per domani, che inizia il weekend, con sabato 8 luglio. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con caldo a fondo nel pomeriggio in pianura e la sera anche sulla costa. Venti di brezza sui monti nel pomeriggio, cielo poco nuvoloso o variabile e sarà anche possibile qualche isolato temporale vicino nelle Alpi e soprattutto vicino al confine col cadore. Le temperature saranno minime a 19-21 gradi, le massime da 33 a 35 gradi. In costa minime di 24 a 26 gradi, le massime da 30 a 32 gradi. In 1000 metri 12 gradi, 2000 metri 15 gradi la media. Il tempo per la domenica 9 luglio. Cielo in generale è poco nuvoloso e farà ancora decisamente caldo, specie in pianura nel pomeriggio. Sulla costa venti di brezza, con più affa verso sera. Dal pomeriggio probabilmente qualche temporale sui monti, specie verso il cadore come dicevamo. Verso sera non si può escludere però qualche isolato temporale anche in pianura. non di grande quantità, ma di poca importanza di pianura. Le temperature in pianura saranno da minime da 20 a 22 gradi, le massime da 33 a 35 gradi. In costa minime da 25 a 27 gradi, le massime da 30 a 32 gradi. In 1000 metri 22 gradi, 2000 metri 15 gradi la media. Vediamo la tendenza per l'inizio della prossima settimana. lunedì 10 luglio. Sui monti è costa, cielo sereno o poco nuvoloso. Con molto moderato da sud, cioè siroppo. Più sostenuto sulla costa che di pomeriggio, la tenuera la fa dei giorni precedenti. Sui monti cielo variabile, con locali temporali dal pomeriggio. Possibile localmente anche sulla pianura. Le temperature saranno minime da 21 a 23 gradi, le massime da 30 a 32 gradi. In costa le minime da 25 a 26 gradi, le massime da 29 a 30 gradi. In 1000 metri 20 gradi, 2000 metri 14 gradi la media. E infine, il tempo per martedì 11 luglio. La tendenza che è su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso. Con un vento ancora moderato da sud, più sostenuto sulla costa, che di pomeriggio attuano ancora la fa dei giorni precedenti. Sui monti cielo variabile, con lo ben locale temporale dal pomeriggio. Possibile localmente anche su pianura. Spenderà anche forse qualche cosa nel mercoledì, aumento della probabilità di temporali e caldo più attenuato. Le temperature saranno minime in pianura da 21 a 23 gradi, le massime da 30 a 32 gradi. In costa minime da 25 a 26 gradi, le massime da 29 a 30 gradi. In 1000 metri 19 gradi, 2000 metri 13 gradi la media. Possiamo anche darvi la situazione attuale di questo momento, che sia un momento più importante. Come vi dicevamo, le temporali in montagna ci sono in questo momento e sta piovendo. Poi, altra cosa, le temperature in pianura a Udile sono di 31,5, 31,5, quindi 31,5 gradi. A 30 gradi, con la temperatura di 27,3 gradi. A Trieste, capoluogo della provincia di Frionesa Giulia, è di 27,8 gradi. La temperatura della mare è di 25,4. A Pordenone è ben quasi 32 gradi. E a Gorizia siamo su 31,5 gradi. Bene, mi sembra di aver ricordato tutto. No, tranne una cosa, abbiamo fatto una statistica del mese di giugno, dove veramente il giugno appena passato è stato molto caldo, con una media mensile della situazione di Udine, in una zona di Santo Osvaldo, pari a 22,9 gradi. Valore di quasi 2 gradi superiore alla norma. Solamente nella giornata dal 6 al 9, come vi dicevamo, di giugno, a fine mese, la temperatura è stata sotto la media. Pur non avendo raggiunto valori estremi di temperatura, comunque ci sono state ben 15 giornate calde, cioè con temperatura massima o uguale a 30 gradi. E quindi possiamo dirvi che dal grafico, dall'istogramma, invece questo valore è contestato che il valore è secondo dopo solo l'anno 2003, dove furono invece registrate ben 23 giornate di calde. E quindi possiamo dirvi che è maggiore la cosa. Il mese di lune è iniziato fresco, ma ora è in vista una netta rinfresa delle temperature che dovrebbe avere il suo colmen. In fine settimana, infatti, come dicevamo, la temperatura sarà e aumenterà. Si propone quindi una seconda ondata di calore dopo quella avvenuta all'inizio dell'estate all'astronomica del 19 al 24 giugno. Quindi questa è una statistica e possiamo dirvi che è importante. Una cosa che non si legge sempre, ma è una statistica che facciamo di solito. Dopo fine mesi e altro. Bene, da Aldo Repugine Nordest, RTL1 e Stam Radio, finisce qui il TG regionale e Meteo regionale del weekend e non solo. Da Marco è tutto. Buon fine settimana e buon inizio di settimana a tutti voi. Mandi mandi, da Marco è tutto. Ciao ciao. Grazie a tutti.